media e medio bassa ordini d'amore a cura di vb la storia narrata in questo libro riassume alcuni capisaldi dell'insegnamento dei maestri immateriali valerio il protagonista della storia è uno dei tanti eroi della separatività di quello stato di coscienza tipico dell'evoluzione media e medio bassa che fa ancora sentire ognuno separato dagli altri è inconsapevole di appartenere al tutto uno assoluto comunemente chiamato dio valerio è un maschio nella scuola lavora cioè in un ambiente in cui la presenza femminile è preponderante e ha più modo di soffrire il suo forte senso di separatività è disaffezionato all'oggetto del suo lavoro che sono i suoi alunni ed è distante dallo stato di coscienza dell'evoluto che è comunione con gli altri la frustrazione di valerio si inserisce nello spazio lasciato vuoto dalla sua coscienza ancora insufficiente è questa che lo spingerà ad usare le sue conoscenze esoteriche per fini egoistici a fare della magia nera ad emettere quella che comunemente si chiama una fattura grazie a tutti Grazie a tutti